Mi sono anche commosso, non vi nascondo, perché questo progetto Monterosi nasce dopo il Covid con l'idea di fare la terza squadra di Roma. Così nasce l'idea di un paese che ha 4.000 abitanti e la squadra che in Italia da due anni gioca con l'età più giovane del campionato. E va bene sono presuntoso, sono arrogante, però mi sono fatto tante volte questa domanda, ma non sarà una scommessa troppo grossa quella che ho preso. E invece fortunatamente, anche con un pizzico di fortuna oggi, ma grazie a Menichini, grazie ai ragazzi e soprattutto grazie al signor Fusano e all'avvocato Aleano, che sono i due caposaldi del gruppo Maurizio, perché con il loro arrivo hanno garantito un futuro finanziario a questo club importantissimo. E questa è una cosa straordinaria, abbiamo una proprietà veramente importante e che non ci fa mancare mai il suo supporto. Però dovevamo servarsi ed era difficile perché è stata tornata piena di fortuna. Poi delle volte in calcio, ragazzi, basta guardare quello che ha fatto Ravellino, una squadra che ha dei valori importantissimi e delle volte non gira nel modo giusto. Oggi c'era Stincastro e è andata bene. Andata bene, siamo qui che in modo acuto ha fatto osservare questa ipotesi che c'è, che la Viterbese ha un ricorso sulla finanziazione. Ma ce l'abbiamo pure noi. Se la danno ragione a loro, le danno ragione anche a noi. Io voglio pensare. Ma in tutti i casi, insomma, noi, i ragazzi hanno fatto il proprio lavoro. Oggi, ora il mister gli ha dato due giorni di riposo, dal mercoledì riprendiamo le sedute in attesa di capire che succede. Guarda, io 15 anni fa ero qua seduto, mi ricordo questa aula molto piena e c'era una squadra in serie B, eravamo mi pare. Credo di aver beccato una delle peggio stagioni della storia di Ravellino. Credevo di aver beccato una delle peggio stagioni di Ravellino. Andai via di mia scelta e mi è rimasto, di un fronte di Ravellino, un grande rapporto. Io parlo sempre con chiunque, ho cambiato 23 squadre, ma parlo sempre con un grande entusiasmo di questa città. Perché è una città leale. Città leale ti chiede tanto, tanto ti chiede, ma ti dà tantissimo. E probabilmente di calcio delle volte non basta fare un insieme di buoni giocatori. Tu fai una collezione di figurine, tra le volte, non sto giudicando il lavoro, sto parlando di termini generali. Delle volte fai una buona squadra e non ti viene. Delle volte fai una squadra con valore intermedio, ma scatta qualcosa dentro. Ravellino merita tanto, merita tutto, perché questa è una piazza vera. La piazza gli sta stretta anche la serie B, però per arrivarci è molto difficile. Io quest'anno credevo che l'avellino fosse, sulla carta per me era una delle prime tre squadre, questa. Poi la stagione è andata come è andata e soprattutto non mi aspettavo dopo gennaio, perché sa, fino a gennaio. Poi dopo gennaio, sinceramente, ho detto, questo è duro a riprendersi. E purtroppo è stata così. Mettiamola a parte. E c'è un po' da chiedere insieme chiarezza, perché ho sentito ora, leggo dalle vostre righe, che stanno parlando già che cosa fare e non fare, chiarezza, prima di tutto l'allenatore, decide che fa con l'allenatore, decide cosa fa con il direttore e poi ripartire. Cosa vuoi fare? Io una cosa l'ho detta, mi ricorda un'intervista in questi giorni contro il martello pneumatico della dottoressa Festa, che mi ha assarato per farmi fare questa intervista. Io ho detto una cosa, e ci credo, non buttatevi via ai bambini con l'acqua sporca. Perché in questi casi uno rischia di andare via tutto a mare. No, qui c'è tanto da salvare. Io, questo è il mio pensiero, mi ha chiesto un pensiero oggettivo. Non buttare via il bambino con l'acqua sporca, e qui c'è tanta qualità qua dentro.